Chi l'avrebbe mai pensato? Ero sicura che saremmo invecchiati insieme. Mi ci stavo già preparando. Due simpatici vecchietti, sempre più rimbambiti, sempre più malatici. Ma insieme, capisci? Non puoi essere felice quando invecchi. Entri in una dimensione diversa, come un sogno, come in un altro pianeta. Ci si può vivere recentemente, ma la felicità non è prevista. La felicità è tutta nel passato. Tu puoi solo cercare di ricordarla. E questo alle volte ti fa bene, e alle volte ti fa male. Ci sono tante fotografie di tua madre. Ero una donna affascinante, vero? Certo. Qui eravate proprio due ragazzi. Quanti anni avevate? Lei 19 e io 24. Ci conoscevamo da una settimana. E io avevo già deciso di passare la verità con lei. Io vorrei morire a Natale, con il grande albero illuminato nella piazza, mentre cade lenta la neve, su tutta la propria. In compagnia dei miei due fratellini, qui e qua. In compagnia dei miei due fratellini, qui e qua. E mi sento a casa, al carico, al sicuro.